Ma non lo so, sicuramente ha iniziato bene, però l'avete parlato di domenica ogni partita di Maria Gomez, non capisco la domanda, ma si porta da ciò, resta tre calciatori e diventa problematica di dover gestire e giustificare ogni volta un gol che non arriva. Maria ha fatto una buona partita, si è sacrificato per la squadra, ha giocato con la squadra e per la squadra, io sono molto contento che la squadra abbia vinto e che Maria ha fatto la prestazione, ripeto, per la squadra sarebbe stato molto più dispiaciuto se avesse segnato e avremmo perso.